brusco arresto per il governo di mario draghi che vede un netto calo nei sondaggi politici l'esecutivo insediato si qualche mese fa registra già un 3,2 per cento di consensi rispetto a sette giorni fa stando alle ultime rilevazioni a cura di monitor italia e realizzate da tecnè con agenzia dire la maggioranza degli italiani 54,2 per cento continua ad avere un giudizio positivo dell'attuale governo ma il trend è comunque significativo non ha fiducia infatti il 33 per cento mentre non sa il 12,8 in sostanza è l'andamento dal 13 febbraio giorno di insediamento del premier ex banchiere il consenso nel governo ha perso 4,2 punti di percentuale e sono quasi 5 4,8 se si considera il 19 febbraio giorno in cui i giudizi positivi nei confronti dell'esecutivo toccarono il picco del 59 per cento da quel momento il consenso è diminuito fino al 54,2 per cento di questa settimana non va meglio al presidente del consiglio che registra un calo della fiducia a favore secondo i sondaggisti di emg di giorgia meloni la grande attesa iniziale l'aspettativa alimentata dal racconto dei media possono diventare un boomerang aveva detto anche antonio noto credo draghi stia scaldando ancora i motori di certo finora ha parlato davvero troppo poco visti i numeri di partenza molto alti un calo può essere anche considerato fisiologico resta il fatto che gli italiani per adesso non hanno percepito nessun cambiamento concreto rispetto alla situazione precedente e questo pesa senz'altro tanto che i consensi nei confronti dell'ex presidente della bc e per l'istituto noto sondaggi è in discesa e passa dal 57 al 52 per cento più impietosi alessandra ghisleri e fabizio masia la numero uno di euro media research e quello di mg acqua vedono rispettivamente il premier al 47 al 40 per cento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti